Sabato 27 aprile 2013. Scorcio di una spiaggia a Casa Micciola. Grazie regia. Esemplari maschi di H. Sapiens Sapiens impegnati in attività agonistica con palla. Volgarmente chiamata racchettone o beach. Beach cosa? Beach, io non dico le parolacce. Il mare, vero regia? Altri splendidi, meravigliosi esseri umani, viventi. Sabbia bagnata a causa delle recenti piogge. I capelli della regia. La regia vista di spalle. Ah no no, niente da fare. La regia non si vede. Sì. Sì, è un eloquente commento. Ci sono due palmi. Che due palme. Sì, le due famose palme. Che due palme, esclamò. E poi il monte con la nebbia. Il monte con la nebbia. Di solito ha la neve ma noi ci accontentiamo della nebbia. Il nuovo, il nuovo, il nuovo, il nuovo, con la nebbia. Con le nuvole. Con le nuvole. Bene. Ora noi dovremmo sederci su questa sabbia bagnata. Ciao.